Un salto all'interno della pasticceria Mamma Grazia di Via Vincenzo Russo, nocera superiore da 80 anni, qualità e bontà per i propri clienti, dolci freschi tutti i giorni, tante torte e anche cioccolatine e poi in questo periodo non possono mancare i panettoni prodotti dalla casa, andiamo allora a dare un'occhiata in laboratorio. E' Pappo Natale che arriverà in snowboard, non lo sai ma gli ho scritto una lettera chiedendo... Si è in piena lavorazione qua a panettoni artigianali? Si, solo con lievito madre che viene giustamente rinfrescato ogni tre ore e di sera viene fatto l'impasto serale per poi rimbastare ancora il giorno seguente, tutto senza additivi e conservanti. Pasquale qui ci sono tante tipologie di panettoni? Si, noi produciamo circa 10 tipologie di panettoni, uno più originale è il cubetto di limone della costa sorrentina, il panettoni fighi e noci di sorrente e fighi del cilento e il pistacchio di bronde con gocce di cioccolato fondente, poi tutto il resto sono da scoprire, riusciamo a soddisfare un palato dai più piccini ai più grandi. Poi è possibile anche ordinarli? Si, possiamo ordinare i panettoni o telefonicamente oppure tramite il sito internet www.pastchiamammagrazia.com possiamo anche fare ordini dal nostro sito internet. Come on, it's lovely weather for us laid right together with you